Premesso che l'idea di rendere felice qualcun altro con una domanda non mi convince proprio per niente, ma se questo è il percorso obbligato, allora domando ad Einstein e a Cenerentola, quando siete felici, se lo siete, come create la vostra felicità? Come si crea la vostra felicità? Non si crea. Non si crea. La caratteristica della felicità è che non si crea, è che si aspetta. Lunga letteratura a questo riguardo, lunghissima letteratura. Per condensarla in fretta bisogna staccarsi un pochino dalla parola latina felicità. Felicità, felicité, felicidad, eccetera, no? Terima tutta la felicità, la felicità. Felix, latino, vuol dire fertile. Un allevamento di polli è felix. Un vivaio di piante è felix. Quando tu pensi alla felicità non pensi a un allevamento di polli. Pensi a un'altra cosa. Un'altra lingua europea lo vede meglio, per esempio, della felicità, che l'inglese. Happiness. Happiness è un bel termine. Happiness è esattamente quello che tu pensi quando pensi alla felicità. Happiness è un estratto. Da dove viene? Dal verbo happen, che vuol dire succedere. Happiness, tradotto letteralmente, sarebbe succedibilità. Sì, succedibilità, benissimo. La caratteristica, la capacità di succedere di qualsiasi cosa. Ecco, questa è una bellissima idea barbarica, perché è barbarica come idea, però ottima. Perché è barbarica? Perché per i latini la felicità era all'interno di uno spazio regolamentato. Per cui, novità, che siano coltivabili e fruibili e mangiabili. Siano in latino, molto pratici. I barbari erano pazzi. I barbari erano pazzi. I inglesi erano barbari quando si è formato la lingua inglese. Per esempio, una caratteristica dei barbari, c'è un cronista medievale che dice i barbari non hanno paura dei naufragi. Cioè, per il marinaio normale, naufragio è evitare assolutamente. Per i barbari è una festa. Quando una nave si sbattia o va a sbattere contro gli scogli, per loro è bellissimo perché è una novità. Non mi è mai capitato di dover lottare contro gli scogli e le onde. Quindi, questa è la differenza tra latini e barbari. Dice questo. Se vi interessa, si chiama Sidonio. Se guardate in internet, Sidonio lettere. Sicuramente ci sarà il testo gratis in internet, magari in latino, in inglese. Sidonio, Sidonio, scritto così, lettere. È l'ottava lettera di questa raccolta di lettere di Sidonio. Dice che i barbari quando, no fregano, sono felici. Perché il concetto di happiness, cioè che succeda quello che può succedere. Quindi crearsi la buona felicità è il contrario, è il programmare. La felicità non è programmabile. Naturalmente uno dice, infatti tante volte ho provato a essere felice. Io che ho vinto all'otto 500 miliardi di miliardi. Ho provato a essere felice, mi sono programmato tutto e sono molto triste con i miei 500 miliardi di miliardi. Perché si ripete tutto quanto da capo. Perché ora lì la felicità non è programmabile, non è creabile. Se la crei non è felicità, deve succedere, succedere. Fine della risposta.